un saluto a tutti ragazzi da messi 91 siamo su the outer words e stiamo per andare da arlo il vecchio amico di felix per capire se lui effettivamente stia lavorando o meno per il consiglio perché gli ultimi i ultimi dati che abbiamo raccolto sembrano indicare che lui stia lavorando per il consiglio quindi cerchiamo di farci spiegare se è così o meno e cerchiamo di capirci qualcosa pensavo fosse una persona morta per un istante mi sembra una persona scusi signore salve che sei un maledetto farabutto trask aveva un sacco di cose sul tuo conto lo sai a detta di trask tu lavori per il consiglio oh sì mostragli i documenti ti sei fatto comprare ho la ricevuta stavo per dirgli di no ma poi mi sono ricordata che esattamente a inizio gioco quando abbiamo incontrato parvati abbiamo fatto qualcosa per le soluzioni spaziali che sono consiglio quindi sì noi abbiamo lavorato per il consiglio qui ha ragione lui speriamo che mi faccia cambiare cioè che non chiuda la conversazione che mi dia delle spiegazioni mi riporti su queste linee perché voglio dargli voglio rispondere la tre io però voglio anche dare delle spiegazioni a felix quindi perché voglio bene a felix prenderò questa non ascoltare le sue scuse non è altro che un codardo non fare questo non fare questo avrei dovuto minarlo avrei dovuto ok è lì ok ah no quello è felix scusa fel fatto no ci sono altri la ok 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 felix ah no ok in mano l'arma mi sembrava per un istante che non l'avesse beh guarda io sono contenta sinceramente perché mi dispiace per felix perché si sentirà uno schifo lui e mi sono spaventato un sacco perché non mi aspettavo che mi attaccasse lui però va bene va bene sono contenta sono soddisfatta di avergli spaccato tutta la faccia perché si aumentava questo tizio ma tantissimo pure mi frego pure tutte le sue parti guarda così poi mi modifico le armi le armature faccio tutto faccio guarda che bello ti frego tutto uh ce ne sono altri ecco qua che ma a chi serve l'esercito ti berlio e non ha bisogno di un esercito l'automeccanico è deficiente non se neanche accorgo che stiamo sparando la sua gente fatto ma parlano ancora li sento se ti vorla forse era sto tizio qua che qualcuno ha uccido non era sto tizio qua fuori legge questo c'era qualcuno che stava orlando l'ho sentito ma non lo vedo va bene così dai felix tu hai qualcosa da dire per quello che è successo eh mi dispiace in realtà no ma ci ha attaccato lui comunque l'ultima è perfetta non guardare mai felix io non penso sparo e basta però no dai credo che cercherò di tirare un po' sul morale dicendogli che deve farsi una ragione i soldi cambiano le persone probabilmente il consiglio dato che loro possono ho offerto un sacco di soldi a darlo credo che tu sia meglio di così grazie per il voto di confidenza boss già bravo phil grazie per il tuo tempo boss prego andiamo a casa phil non ce ne frega di arlo questo puzza noi abbiamo tutto quello che ci serve sulla nostra nave l'ottimismo di parvati il cinismo di elli abbiamo ada che ci spiama mentre dormiamo sam che ci pulisce le stanze il vicario e le sue massime di vita gnocca e la sua brichezza molesta tu hai tutto quello che ti serve ma soprattutto hai un capitano fierissimo che effettivamente non sa cosa sta facendo però ci crede un sacco in quello che fa e quindi va ovunque a testa alta e ti guarda le spalle soprattutto non preoccuparti non ti serve allo ci siamo noi a prenderci cuna di te me l'hai già detto dobbiamo fare qualcosa a riguardo me l'hai già detto è un problema lo so ora capisco cosa intendeva ada ora capisco perché ada continuava a dirmi che c'è solo un bagno ed è un problema ha ragione non fartela nella tuta ok cerca di trattenerla cos'è quel raptor nella tua stanza ma mi pare di aver glielo già chiesto in realtà ah si glielo già chiesto sta roba che è il primo rap che ha ucciso e se lo porta dappertutto praticamente va bene allora io ho visto che tanto me ne frega delle scale perché sono una ribellina farò così e poi così e poi così perché siamo fichissimi mentre andiamo a a viaggiare di nuovo dov'è che dobbiamo andare dobbiamo solamente cambiare punto di atterraggio giusto su Silla dobbiamo andare qui per uccidere devo andare ad uccidere i primitivi che secondo gnocca esistono solo su questo pianeta quando non è proprio così ma va bene dai gridiamole diamole retta lei è l'esperta di caccia diamole retta ok mi sono portata a Sam ah devo anche livellare è vero dicevo mi sono portata a Sam perché non me lo porto mai ma non me lo porto mai perché Sam essendo un robottino non ha mai linee di dialogo interessanti da dire quindi finisce che non me lo porto mai posso alzare l'intimidazione alzo l'intimidazione che è molto alta perché ho Sam in squadra solo per quello ok lo portiamo a 70 e poi col prossimo level up ad 80 così guadagniamo un 10% in più di terrorizzazione diciamo così sui nemici fatta vantaggi vai faccio questo c'è qualcosa nel sangue nella violenza che ti aiuta a trovare la concentrazione non è per nulla inquietante il tuo colpo successivo all'uccisione di un nemico è un critico garantito fatta vai ok allora c'è un punto preciso dove si la chi se ne frega dell'ascensore au vado vado ho tempo da perdere io devo correre fortissimo dov'è eccolo lo plasmo tutto lo plasmo vai vai Sam ficchia no è andato sotto terra dall'azione bravissima mia cazzo dov'è ho visto che è andato sotto terra ma vai Sam ma l'hai preso ma che hai preso Sam ah scusa io stavo mirando là ah perché erava già morto forse già coccolato tremi tutto coccolato sei morto stai fermo sei inquietante allora abbiamo ottenuto quello che ci serviva possiamo tornare raccogli tre ok tre ghiandolo quindi una cambiamo arma che questa no questa non serve a un tubo me la porto perché mi ricorda la reagan di call of duty e basta ma non la userò tipo mai e proviamo ad andare con un approccio un po' meno devastante così ma scusa ma che bruttezza questo coso qui ehi 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 dov'è bravo ma perché va sotto terra perché vanno sotto terra sti cosi maleditti loro ok morti tutti morti tutti bravo Sammy no non sono morti tutti perché qualcuno qua dietro sta ancora sparando ah ci sono dei banditi e ce n'era uno dove è cicciato fuori questo udizio ma chi lo sa freghiamo di tutto anche le mutande è fatta e l'ultimo e l'ultimo è là andiamo Sam tu sei il prossimo che lancio siamo arrivati ma quanto lontano deve essere sto primitivo scusami Sam voglio che tu entri proprio così con lo schianto e vai vai Sam spiaccicalo tu ma io avevo selezionato quello dietro Sam gnocca pensaci tu però Sam non ha una buona mira per lei brava gnocca bravissima ragazza levati Sam aspetta che l'ho visto che è sceso sotto ok non è venuto da me perfetto ok fatto ma poverini sembrano terrorizzatissimi vabbè che ora ho l'intimidazione a 8000 quindi spavento pure sti cosi siamo fortissimi fatto parla con gnocca gnocca ciao ok dove la troviamo però dobbiamo tornare indietro queste ghiandole fanno schifo prendile ti prego grazie sono un capitano fichissimo cosa significa Charon carino ricordami cos'è questa base ok ok andiamo ok andiamo mi pareva di essere stata chiara andiamo tanto che siamo qua scusa perché non ucciderli tutti giusto dov'è 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 ok che cosa mi stanno sparando la popò ok vieni che sono grosse scimmie ma anche se non mi lanciano la popò va bene vulnerabilità era agn perfetto vabbè io questo la prendo perché mi dà solo debolezza era agn che non ho idea di cosa sia ma va bene uguale e mi danno un punto vantaggio che accetto molto volentieri sì comunque ci sono un sacco di potenziamenti per le armi scientifiche probabilmente perché appunto fanno schifo cioè devi fare una build apposta per l'arma scientifica ok andrei con questa dopo aver ucciso un nemico le penalità di precisione e stabilità dell'arma quando ti muovi si azzerano per un breve periodo prenderei questo qui ok aspetta questo tizio ha un sacco di drop me li frego tutti eccoci qua allora oh no adesso vado perché Ellie deve sempre fare i casini è colpa di Ellie lo so dov'è o tu sei faccio quindi è sempre Max il problema è Max Max è impazzito cioè non è impazzito ma è diventato strano è diventato diverso dopo quell'esperienza e continuo a pensare di aver fatto dei casini però ormai li abbiamo fatti e quindi ce lo teniamo come non è che possiamo tanto buttarlo via ce lo dobbiamo tenere come allora dicevo prima di impostare la prossima destinazione dove dobbiamo andare? Gnocca deve andare su fermi tutti Gnocca deve andare su Monarca lei deve sempre andare sulla Bisanzio non so cosa farci e poi c'è la stazione sì la stazione da ripulire diciamo così lei deve andare su Monarca sono ancora in attesa della signorina Zora io ragazzi sto facendo tutte le altre missioni per questo ok siamo Gnocca e Sam è inutile Sam Sam è il vicario io li trovo poco interessanti come personaggi soprattutto adesso che ho fottuto tutto il vicario quindi non me li porto mi porterò siamo su bel rivo parvati dobbiamo andare a battere una gigantesca avanti regina direi che ci serve un gigantesco martello che dite eccoci qua allora qualcosa è riuscito alla mia destra infatti guardalo là una mantio reginetta no non è una mantio reginetta però un manticino piccolo piccolo ehi questo non è così piccolo però piano maledetti voi un larvetto ehi ehi povera mi piace fatto abbiamo spento un'ioca allora dicevo dobbiamo andare per di lì ok dobbiamo entrare in questo grosso coso va bene dai lo accetto poi qui davanti lo è ma lo accetto gnocca vai fai la tua magia faccio io vai tu vado io vai tu allora ok vado io basta ma sto fatto Sharon apriti Sharon a cavolo mi è stata proprio scavata all'interno di un montagnolo di un montagnolo e la gente giocava brutalmente a carte ora capisco perché sono stati presi di sorpresa e sono stati tutti uccisi cioè se giochi a carte sul posto di lavoro questo succede ti arriva una mantiregina tutta di soppiatto proprio in punta di zampette e ti spaga tutta la faccia è normale questa cosa posto suggestivo però ci sono rumori brutti aspetta opal stai tranquillo capo prendiamo un attimo opal che fighissima tale è quella c'è una tempesta di sabbia sopra di noi ah no questo non è opal questo è un riflettore oh povera che schifo ah non so i capelli pensavo che era la pelle ho detto che schifo le è successo mi frego tutto mi frego tutto non te la prendere non te la prendere ti frego tutto però mi piace che abbiano ridoppiato le cose sottovoce è bella sta cosa cosa ho appena raccolto però non lo so che figata è il soffitto mi piace un sacco no non potete vedermi sono dietro una cassetta mettiamola un po' giù mentre spariamo di tutto ma dove faccia gnocca spaccalo tutto spaccalo tutto bravissima lei ok qua poi mi piace la piccola parvata ma abbiamo ucciso anche l'amanti regime era questa ma me l'aspettavo molto più grossa e spaventosa sinceramente c'è tipo un palazzino un piccolo palazzino mi aspettavo ci sono se devo aspetta eh aspetta ma do guardate in questo punto preciso dovevo guardare perché se no non funziona vorrei scappare possiamo nasconderci mio canone qui in mezzo può stare arrivando una gigante scappata di legina mi sembra mi sembra di aver notato qualcosa di diverso da quando siamo entrati sì che sta arrivando una gigantesca creatura avete costruito tutto questo questa base ci staccato la granica attraverso attraverso la piccola cosa la piccola la piccola 5 la piccola la piccola la piccola per la piccola arrivederci a sawbones out of the Cascadia survivors who took a kindness to Hayes and Clara her little sister i'll admit i wasn't keen on taking her on at first Porca vacca non glielo direi mai Deve essere stata una ragazzina coraggiosa Sì voglio dire non credo cioè non è stata lei ad ucciderli alla fine o comunque a portarli nel pericolo È il posto in cui stanno vivendo che è pericoloso È questo il problema cioè sarebbe stata in pericolo ovunque quella ragazzina lì Mi dispiace che non siano qui a vederci a prendere a calci delle mantichiappe Cominciamo dai Dove? Ah là ok gli corro in faccia che se ne prendo No aspetto che arriva gli spago tutta la faccia Wow wow Go Parvati Spag tutta la faccia Parvati Car miseria bisogna dare una mano Ok l'amante regina è ancora a terra dopo la botta di Parvati Gnocca colpo di grazia grazie Vai è tutta tua Perfetto Facce ancora colpino Vieni qua Parvati Ho urtato il tasto di Parvati Parvati mi ha rubato l'azione Ma questo lo piglio io È mio Ok Hanno modellato bene le facce delle manti regine porca miseria Potevano farla più grossa però avrei voluto sparare a una cosa a quell'altezza sarebbe stato fichissimo Però va bene così dai qui c'è una piuma nel mentre Sono delle piume Ah no sono piante ok Gnocca ti devo parlare giusto Ce l'abbiamo fatta Ho visto Prego Non c'è di che Gnocca No se li vuole lasciare qua non le dirò di tenerli c'è una sua scelta Perché sono in questo Ah perché c'è un letto e stavo guardando il muro Che inquietudine Gnocca però così dietro a tradimento Ah ecco dove li ha messi Credo li abbia messi qua Una delle poche persone che meritavano di meglio Opal si li ha messi qua Rebecca ha deciso di tornare da noi all'ultimo momento Cassetta di sicurezza improvvisata Questa cassetta non si apre Evidentemente Gnocca doveva aver rotto il meccanismo di apertura Al suo interno sentì il rumore di diversi piccoli oggetti metallici Probabilmente i medaglioni della sua squadra Ah li ha messi qui e li ha Tipo chiusi rompendo l'occhetto Tra donne e raptadone è morto facendo ciò che amava Anders Ok Questo? Ok Jackson il suo crimine più grande è stato Avere il fegato di morire prima di me Clara la cosa più simile ad una sorella Che abbia mai perso Oh mi spiace Ok Il video di oggi termina qui Ancora non ci sono notizie da parte di Zora Quindi andremo avanti con l'ultima missione Che ci rimane della sub luce Andremo a ripulire quella stazione Che ci è stata detta di ripulire appunto per loro E poi faremo quello che ci rimane Ovvero consegnare l'arma E le mani di Sanjarn Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento Un like ed iscrivervi al canale Se non lo avete già fatto Vi auguro una buona giornata Un saluto a tutti 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 Grazie a tutti.